Il ritorno al Tempio del Fuoco Che succede? Il Tempio del Fuoco! Per caso hai nostalgia di casa, Flame? Magari ha dimenticato lo spazzolino. Che meraviglia! Flame, perché ci hai riportato qui? Penso ti voglia mostrare qualcosa. Va bene, va bene, sto andando. Ecco cosa volevi mostrarci. Un passaggio segreto per l'oltretomba. No! Whiplash, capo, abbiamo ospiti. Ninja, attaccate! Ninja, go! Non siamo poi così forti senza l'aiuto dei tre amicretti, vero? Tieni duro, Kai! Veniamo ad aiutarvi! Posso farcela da solo? Lo sai che non è così, sciocco. Certo, sto escogitando un piano! Già, non penso che queste teste d'osso si faranno rivedere presto. Hai visto? Ti avevo detto di avere un piano. Testa, Tirapa, hai dimenticato di nuovo la stufa accesa! Non c'è stato tutto! 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 No! Non c'è stato tutto! Non c'è stato tutto! Ninja, ninja, go! Come on, we're gonna do it again! We're just jack-clock-clock! Can't touch with the count of spin!